Di che cosa si occupa la sociologia? La sociologia è lo studio, l'indagine della società e dei fenomeni che si manifestano in essa. I sociologi studiano la società in maniera scientifica, cercando di capire come riesca la società stessa ad esistere, a sopravvivere e a funzionare in modo corretto. Fin dall'antichità si è creata la società a partire dal IV secolo a.C., dall'affermazione della polis e intorno a quell'epoca il filosofo greco definì l'uomo un animale sociale, cioè portato per natura ad associarsi ai suoi simili e a cercare le strategie per vivere meglio la vita in comune. Nel secolo successivo, nell'Ottocento, si è avviato lo studio della società in maniera più analitica, più scientifica, grazie anche al processo di industrializzazione, quindi al proliferare delle fabbriche, allo spopolamento delle campagne e alla nuova fisionomia dell'ambiente caratterizzato proprio dalla crescita delle città, quindi delle aree urbane. La vita urbana, pertanto, modificò anche le relazioni tra gli individui. Alcuni studiosi videro in questa trasformazione della società una sorta di attentato ai valori morali e religiosi della tradizione e altri invece pensavano che ciò rappresentasse un'opportunità nuova, moderna, straordinaria per aumentare il benessere di tutti. Altri ancora richiamarono l'attenzione sul fatto che l'industrializzazione invece comportava la nascita di una grande massa di operai sfruttati ed estremamente poveri.